Ciao a tutti e benvenuti su Lady Gossip. Oggi siamo qui per discutere dell'ultimo sviluppo nel mondo dei gossip riguardante Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato Edoardo Donnamaria. Sembrerebbe che Antonella Fiordelisi non abbia preso benissimo l'ultimo gesto di Edoardo Donnamaria. Il suo ex fidanzato. Secondo le voci che circolano, un regalo che le fan avevano fatto in passato alla coppia è finito nelle mani della presunta nuova fiamma di Edoardo, o forse era semplicemente un'amica. Questo dettaglio è stato portato alla luce da un tweet e segnalazione riportata da Dejanira Marzano. Prima di scoprire la reazione di Antonella, vi ricordo di iscrivervi al canale Lady Gossip e attivare la campanella per essere aggiornati su ogni nuovo pettegolezzo. Molti fan di Antonella e Edoardo hanno sottolineato che si trattava solo di un cappellino. Tuttavia, questa situazione ha spinto Antonella a sfogarsi su Twitter e a lanciare un nuovo post. L'ex Vippona ha sottolineato che, a differenza di molti personaggi pubblici, ama essere sempre riconoscente e gentile con chi la segue e la sostiene. Antonella ha anche ricordato tutti i doni ricevuti dai fan, le persone che hanno bussato alla sua porta e le cose carine che ha apprezzato in questi mesi. Ha condiviso che spesso ricambia il sostegno sui social quando vede qualcosa di carino che la colpisce. Riconosce l'affetto che ha attirato su di sé a causa della sua esposizione costante e ha avanzato una richiesta ai fan più intelligenti. La richiesta di Antonella è stata chiara, non vuole più essere associata ai suoi ex, compreso Edoardo Donnamaria. Vuole concentrarsi sulle cose positive che le stanno accadendo e godersi la sua vita. La sua dichiarazione è stata diretta e sincera. Dall'altra parte. Sembra che Edoardo abbia risposto indirettamente attraverso una storia su Instagram. Citando Eleanor Roosevelt, ha condiviso la frase, grandi menti parlano di idee. Menti mediocri parlano di fatti. Menti piccole parlano di persone. La domanda è, questa citazione è rivolta ad Antonella? Lasciamo a voi trarre le vostre conclusioni. E così si conclude questo aggiornamento sulle ultime notizie riguardanti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Continuate a seguirci su Lady Gossip per tutti gli aggiornamenti sul mondo dei VIP e dei Gossip. Sì. Ro терри! Mi raci! Mi raci! Sì. 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 Grazie a tutti